Sono il comandante di questo volo per Parigi a nome della compagnia Ita Airways e il futuro equipaggio vi rinno al benvenuto. Ultimando le operazioni necessarie alla partenza prevediamo di lasciare il paccheggio entro pochi minuti. Il tempo di volo dopo il decollo sarà di circa 1 ora e 40 primi. Le condizioni meteorologiche lungo la rotta sono riportate buone in crociera, una leggera turbolenza durante la salita e sulla prima parte di volo. Attualmente a Parigi la temperatura ultima è di 12 gradi, il cielo nuvoloso è leggermente ventoso. Vi ringrazio per averci scelto e vi auguro piacevole volute. In Creuab, Dowards and Cross Check.